attenzione ancora Condobbia, Condobbia, Condobbia in aria ancora Condobbia si gira gol incredibile gol di Art gol di Condobbia come l'anno scorso l'anno scorso lo dico a tutti gli astanti Condobbia segnò un unico gol in campionato a Torino ma su una clamorosa cappellata di Art il portiere ha fatto una cosa senza senso allora ve lo facciamo vedere Condobbia fra due traversali scuscia bene poi prova il tiro e Art si fa passare il pallone ma come si fa a prendere e lo voglio dire al camoscio devi stare zitto allora è caduto Giodenti Giodenti purtroppo spero che non si sia fatto male ha rotto anche la sedia scusa ha rotto la sedia che Zampolin sta cercando di riparare allora cerchiamo di spiegare questo gol che ha lasciato interdetti un po' tutti guardate pareggio del Torino e passare il polone e passare il polone o leee a cacca a cacca a cacca 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 d'oro cacca 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 d'oro cacca mi scusi ma cacca d'oro cacca si mi permetto di dire che non mi sembra la musica tipica di Torino Allora il gol del Torino Chi è che ha sbagliato il passaggio? Attenzione acqua, 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 fuoco, fuoco, fuoco Allarga tutto a destra dove comunque arriva a supporto Baselli entra in area, anzi turbe Acqua di prima, gol! Gol di acqua, gol di acqua, gol di acqua Cacca, cacca, cacca Toro, cacca Cacca Toro, cacca, cacca Toro Allora l'onda, l'onda mondo flex, l'onda mondo Ancora in terra Pallone adesso sulla destra, dobbiamo raggiungere subito il pareggio Palla in mezzo Arta vuoto Candreva! 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 Riccardi! Non Riccardi! Con Perisic che sembra fuori gioco ma che non partecipa all'azione L'onda mondo flex, l'onda! Andate all'Inter! Andate all'Inter dai! E' finita, e' finita, e' finita, e' finita 2 a 2 No, 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 no.